Il divorzio tra Ilari Blasi e Francesco Totti è la notizia di questi mesi estivi, dopo l'annuncio della separazione a luglio, sembra che le pratiche per l'ufficializzazione stiano ritardando. Ecco cosa si dice in merito alla notizia più scioccante dell'estate del gossip Ilari Blasi e Francesco Totti sono stati una delle coppie più seguite e amate dello show business italiano, 20 anni di amore, che, li hanno resi agli occhi di tutti una coppia indistruttibile, fino a quest'estate. A luglio è arrivato l'annuncio della loro separazione, con due comunicati ufficiali singoli, e ora arriverà la sentenza di divorzio. Ma quando? Pare che la situazione legale tra i due si è rallentata, ma quali sono i motivi? Il divorzio tra Totti e Ilari rallenta, cosa sta succedendo? Quando una coppia decide di, separarsi, per qualsiasi motivo accada, non è mai semplice tanto più se si tratta di due persone famose. La rottura tra Francesco Totti e Ilari Blasi, che si sono conosciuti da giovanissimi portando avanti la loro storia per 20 anni, di certo non è tra le più semplici. Tre figli, Christian, Chanel e Isabel, tantissimi investimenti in comune e un business lungo anni da dove ora sciogliere. Dopo, l'annuncio della separazione l'11 luglio 2022, sono state tante le speculazioni sul loro conto, tradimenti, flerte da parte di entrambi e una persona, Noemi, che sarebbe stata la miccia che ha fatto scoppiare tutto. A quanto pare, però, le carte del divorzio non sono ancora pronte e la questione legale dovrà attendere ancora un po'. Sarà colpa della pausa estiva o sono altri i motivi che stanno, rallentando il processo di separazione tra Ilari e Totti? In molti pensano ad alcuni ripensamenti da parte di entrambi ma, probabilmente, la questione è molto più complicata. I motivi economici che rallentano la separazione di Totti e Ilari è facile pensare che Ilari e Francesco siano ancora indecisi sul da farsi, che i loro sentimenti siano ancora troppo forti per legalizzare una separazione. Non, si può entrare nel merito personale delle decisioni, ma sicuramente un divorzio come il loro non è questione semplice. Come abbiamo detto, infatti, i due hanno anni e anni di business in comune da dove dividere. Esistono diverse società costituite per la gestione degli interessi in comune e quindi la partita legale, sicuramente, sarà più che complicata. Tutto quello che succede a coppie normali, che si separano diventa gigantesco quando si tratta di due persone multimilionarie. Bisogna affrontare un percorso economico e finanziario non da poco. Saranno tante le decisioni da prendere, anche per il bene dei loro figli, e a quanto pare una volta finite le vacanze estive Ilari e Totti si incontreranno a tavolino, con i loro legali, per parlare su ciò che è meglio fare. I due, come racconta il Corriere della Sera, stanno per tornare a Roma dalle loro vacanze e forse già a inizio settembre partirà il lungo percorso per avviare il divorzio ufficiale. Ad assisterli due legali molto famosi tra i VIP, Ilari Blasi si è affidata ad Alessandro Simeone, già legale di Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. Francesco Totti, invece, sarà rappresentato da Antonio Conte, che segue non solo la AS Roma, ma anche clienti come Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo. Vedremo se l'ex coppia riuscirà a trovare un accordo o se la questione si protrarrà, per le luci.